Sul ponte della musica in preparazione ormai domenica la Maratona di Roma, ma come va questa preparazione? Stefania Cappa in diretta. Allora siamo sempre qui, vicino a me Roberto Di Sante che oltre a essere una maratoneta è anche uno scrittore, ha scritto un libro che si chiama Corri dall'inferno a Central Park perché la maratona è un filo luminoso. Certo, è un filo luminoso che ti può portare a cambiare la vita, è la ricerca di un sogno impossibile e domenica tutti quelli che faranno la maratona potranno essere protagonisti di un film, di un film della loro vita. La maratona è l'Everest, quindi consiglio di non pensare né al tempo né alla posizione perché chi conquista l'Everest non gli chiedono quanto tempo ci ha messo. Che cosa è stata per te correre? Che cosa ha significato? Beh, correre mi ha salvato la vita, ha reso la vita colorata. Correre e rinascere, correre e uscire morto da casa e tornarci vivo, riappropriarsi di tutto e di sognare ancora. Ho cominciato a correre per scappare degli incubi e adesso corro per inseguire i sogni. Qualcuno l'ho raggiunto e qualcun altro lo raggiungerò ancora. E domenica sarò qui a correre la staffetta della maratona di Roma. Insieme a Roberto ce ne saranno tanti di runner come vedete qua intorno a me. Simone Menichetti, presidente della UISP di Roma, sarete anche voi presenti in tanti. Comunque voi avete anche avuto un'idea, un progetto sempre per quanto riguarda la sostenibilità, la corsa, il camminare. Sì, saremo presenti anche noi con tanti nostri soci, la stracittadina soprattutto. Noi abbiamo sviluppato un'app all'interno del progetto Sport per Tutti, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per premiare coloro i quali utilizzano, preferiscono utilizzare la camminata, la camminata veloce e la corsa, per recarsi da casa al luogo di sport o dal lavoro al luogo di sport. Riuscendo quindi a utilizzare la camminata, la corsa o la camminata veloce in luogo dell'autovettura, dell'automobile. Quindi utilizzando metodi di spostamento sostenibile. Ci si può iscrivere a quest'app e concorrere a varie premialità se si riesce a fare questo, insomma. Perfetto. Invece vicino a me la coordinatrice dei Pacer, dei 175 Pacer della Maratona, Federica Romano. Quanta sostenibilità, quanta socialità c'è in questa maratona? Guarda, ti do solo due battute Stefania. La prima è la Coppa dell'Ultimo, un'iniziativa che è stata messa a terra insieme ad Atletica Vaticana, per cui verrà premiato l'ultimo corridore che transiterà a Piazza San Pietro. La seconda, le staffette. Le staffette sono basate su un sistema di charity, per cui tutti quelli che partecipano concorrono a fare beneficenza per la charity che avranno scelto. Ecco, c'è un'ultima cosa che possiamo dire, correranno anche diversamente abili. Sì, correranno anche diversamente abili, avranno una partenza chi è in carrozzina leggermente anticipata. Benissimo, allora vi voglio anticipare una cosa, io do il pronti via e i nostri runner stanno per partire. Sono partiti a freddo, eh? Sono partiti a freddo. Sono partiti così. Vi restituisco la linea, grazie. Ciao, Siffra.